Ragazzi, se mi date un attimo di tregua, annuncio la prossima avventura. Ecco, grazie mille. Oggi il gruppo Ciani è stato invitato da una band locale a un'esibizione live con gli strumenti tipici del luogo. Io la vedo malissimo, ma speriamo in Sergio che riesca a salvare il gruppo da una figuraccia annunciata. Vediamoli. Ragazzi, siamo pronti? Abbiamo studiati. Ok, seguitemi. Uno, due, tre. No, no, no. Stop, 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 stop. Che c'è? Cosa è successo? Eh, è lui, è lui. Vedi, te l'avevo detto. Capito? Cosa sta succedendo? Devi suonare bene. Diciamo, i miei colleghi non è stato molto bravi. Questa non me l'ha aspettato. Sole! Un attimo, ho perso. Sente, io avevo l'orecchio. Ma perché poi è colpa a lui? Il peggiore è me. Dai il ritmo proprio per niente. Messi, per un errore una volta. No, io sbaglio una volta, tu sbagli. Hai salviato, bro. Ricomincia, forza. Raga, adesso sincronizzati tutti, ce la possiamo fare. Tutti insieme. Secondo me rimane il migliore Sergio, ragazzi. Sergio ufficiale è il più bravo. Siamo stati bravissimi. Siamo stati un vero band. Dai, ragazzi, quasi, quasi, portatevi in tour come è. Roberto! Ecco, Sergio, se vuoi continuare ad avere successo quei tre in tour con te, proprio no. Comunque c'è da dire che da quando Sergio li ha messi in riga, i ragazzi hanno spaccato. Ragazzi, non dovete prendere alla lettera tutto quello che dico. E dai! Ciao!